Mi chiamo Sara Boccacci, ho 42 anni, vengo da Canetra in provincia di Rieti. Mi sono iscritta a questo corso di cucina perché è un regalo che mi è stato fatto da mia madre per darmi la possibilità di lavorare in questo settore. Seguo la scuola da anni, conosco persone che hanno frequentato i corsi qui, sono venuta personalmente a vedere la scuola e ne sono rimasta affascinata. Sono contentissima della scelta che ho fatto perché ogni giorno imparo una cosa nuova, ogni giorno ho un'esperienza nuova, ogni giorno mi metto in competizione e ogni giorno è un'esplosione di piatti, di colori e di profumi. Ho scelto di fare lo stagio con lo chef Matteo Barbarossa perché si avvicina molto al mio stile di cucina e perché sono sicura che potrò imparare molto dal suo modo di fare. Consiglio a tutti di scegliere la Chef Academy perché è una scuola fantastica. Faccio tanti sacrifici al mattino per venire qui, mi sveglio, tornare, la famiglia è tutto, però la consiglio vivamente perché io sono felicissima di aver fatto questa scelta.